Onnit, IT experience. È un spazio molto, molto rigenerante per le persone che ci lavorano perché abbiamo voluto inserire il legno naturale, abbiamo pensato di disegnare da zero i tavoli sulle necessità e sulle esigenze appunto che ha l'azienda e l'obiettivo è stato raggiunto con questi elementi di legno provenienti da foreste certificate che a fine vita potrà essere completamente recuperato. Nelle sale riunioni è stato previsto la possibilità di avere uno spazio interamente flessibile, molto flessibile, quindi si possono smontare completamente i tavoli anche quelli sul nostro disegno per poter fare spazio ad incontri più flessibili, più aperti, più informali. Stiamo prendendo possesso di tutta la parte nuova dell'ufficio. Dobbiamo lavorare bene, quindi questi sono dei locali che si possono far lavorare bene.